Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli del nostro sommario Disagi al rientro a scuola dopo le votazioni A Carrara, Cucurano, i bambini sono rimasti in giardino Perché i banchi non erano stati sistemati a distanza In regione è già iniziato il Totonomi Tra i papabili per un ruolo di assessore C'è anche il panese Mirko Carloni A Roma Salvini e Meloni lavorano per un accordo Tra gli esclusi Renato Binardi e Stefano Guzzi Che tra poco sarà ospite del nostro telegiornale Fano e Pesaro confermano la festa dei fiori A Vallefoglie invece al Via la fiera di San Michele Arcangelo Grande festa a Fossombrone per l'ingresso di Don Steven Carboni Guiderà due parrocchie, Maria Ausiliatrice e San Martino Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia Disagi come avete sentito questa mattina Nella scuola di Carrara, Cucurano, a Fano Dove i bambini sono rimasti in giardino fino alle 9 Per permettere le operazioni di pulizia e di sistemazione dei banchi Una situazione che ha fatto però preoccupare i genitori Che hanno sollevato dubbi sulla sanificazione delle aule Dopo la chiusura per lo svolgimento delle votazioni La preside però rassicura tutti La ditta ha igienizzato le stanze Dovevano soltanto rimettere a posto l'arredo scolastico Simona Zonghetti La sanificazione non è stata fatta in maniera adeguata E ancora la scuola è piena di immondizie a posto a votazioni Vergogna Sono solo alcuni dei messaggi arrivati questa mattina alla nostra redazione Tante famiglie ci hanno segnalato i disagi Che si sono verificati in diverse scuole di Fano In cui da domenica a martedì Si sono svolte le operazioni di voto e lo spoglio delle schede Queste ad esempio sono alcune delle foto scattate nella scuola primaria di Bellocchi Invece nella scuola elementare di Carrara Cucurano Bambini e genitori si sono ritrovati all'ingresso intorno alle 8 Ma non è stato possibile lasciare subito i più piccoli nell'edificio Perché all'apertura il personale scolastico si è accorto della mancata pulizia E di banchi e sedie ancora da sistemare Alcuni increduli e indignati hanno preferito riportare i bimbi a casa Altri invece li hanno lasciati nel giardino della scuola Intorno alle ore 9 poi sono potuti rientrare in classe A far chiarezza e a rassicurare i genitori E alla dirigente Eleonora Ugello Avevano concordato che Dell'allestimento delle aule per le lezioni Si sarebbe occupato il comune Invece della rimessa a posto la scuola Solo che purtroppo questa notizia a me Non era stata data diciamo nel passaggio di consegne Quindi io non ho predisposto i turni per farsi qui in questa scuola Cosa che invece ho fatto al Battisti Nella sede di via 12 settembre Al Volta nella sede di Codone del Mare Che sono seggi elettornelli anche quelli Quindi ieri pomeriggio avevo predisposto i turni Perché i bidelli riandassero a rimettere a posto i banchi Quindi questo aver trovato tutto in disordine Chiaramente ha generato un allarme Che facilmente ha fatto ricondurre tutto A non è stato fatto niente Invece non è così assicura l'Augello E questa mattina ha detto Abbiamo sentito immediatamente il comune di Fano Ho parlato con la dottoressa Olivi Che mi ha assolutamente garantito Che la sanificazione era stata fatta dalla ditta Papalini Mi ho chiesto ovviamente Perché altrimenti non avrei fatto entrare i bambini Non sono un'incosciente Ho chiesto comunque che tutto questo mi venisse messo per iscritto Perché mi sembra più corretto Che le scuole abbiano questa informazione in maniera certificata Però mi ha anche letto al telefono Con quali prodotti la ditta Papalini Alla quale loro hanno dato l'appalto Ha proceduto alla sanificazione Ciò che era in disordine è stato sistemato Ha proseguito la dirigente scolastica E in poco tempo la situazione è tornata alla normalità Inoltre sempre in mattinata Gli operai della ditta Papalini E alcuni impiegati del comune Hanno fatto un sopralluogo Rimane, secondo l'augello Il problema dei seggi elettorali allestiti All'interno dei plessi scolastici Che inevitabilmente provocano disagi Per questo, affermato Si dovrebbe trovare un'alternativa Voi sapete che le scuole hanno l'abbattimento Delle barriere architettoniche Quindi anche a me piacerebbe che non fossero usate Però anche se un po' mi dispiace Dall'altro lato capisco che Forse non ci sono soluzioni differenti Di locali con queste caratteristiche Suddivise nei vari angoli della città L'ideale sarebbe Come cittadino parlo, non come dirigente ovviamente Fare le tornate elettorali in periodo di chiusura delle scuole Semplicemente Magari ci si potrebbe mettere un po' di attenzione O se fosse possibile farle in ambienti non scolastici Ci sono stati dei problemi Ma Devono sapere tutti i genitori I cittadini Che tutti i plessi Utilizzati per le consultazioni elettorali Sono stati sanificati Abbiamo le certificazioni Delle ditte E questo è un dato che deve essere conosciuto Ci sono stati due ordini di problemi Per cui quello che è avvenuto stamattina è avvenuto Uno Problemi tecnici Uno risiede nel fatto che La ditta Al quale abbiamo appaltato questo lavoro Ha sanificato E c'è la certificazione dell'utilizzo dei prodotti che hanno utilizzato Ma ha fatto questo lavoro con una qualità sicuramente scarsa Per quanto riguarda alcuni plessi che sono quelli indicati Abbiamo già contestato i lavori di questa ditta Che passerà di nuovo a sanificare e pulire in queste cinque scuole Che fanno parte del distretto scolastico di Sant'Orso Che sono appunto quello che abbiamo detto Carrara, Cucurano, Sant'Orso, due diversi plessi e Bellocchi Poi c'è l'altro, il secondo problema Che è quello che riguarda proprio il distretto stesso Che va chiarito appunto Cioè stamattina c'è stato un disguido Tra quello che doveva essere il ruolo fatto dalla ditta Che ha sanificato ed era tutto in regola E chi doveva riposizionare i banchi Che dovevano essere riposizionati ieri Dal personale scolastico E ciò non è avvenuto Quindi questa mattina i genitori che hanno portato i bambini Si sono visti comunque i banchi che non erano a posto Quindi questo ha generato un po' di confusione E adesso torniamo a parlare Restiamo un po' in tema di elezioni regionali Perché dopo la chiusura dei seggi È iniziato il toto assessori Tra le forze di maggioranza Iniziano a circolare alcuni nomi I nomi dei papabili Ma si attende un accordo tra i leader politici Giorgia Meloni e Matteo Salvini Tra l'altro l'ultima ora è che Salvini domani sarà a Castelfidardo Quindi tornerà nelle Marche ed incontrerà gli eletti E dunque incontrerà domani gli eletti delle Marche E quindi avrà un incontro previsto con la stampa Intanto c'è chi è rimasto fuori Come abbiamo già più volte detto Tra questi i due nomi più illustri Sono Renato Claudio Minardi E Stefano Aguzzi Stefano Aguzzi che tra poco sarà collegato con noi Nelle Marche è partito il toto assessori Concluso lo spoglio delle schede Ora è tempo di affidare gli incarichi più ambiti Tra questi la Presidenza e i sette assessorati Che dovrebbero ripartirsi la Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia Ma si attendono gli accordi dei leader politici Nella provincia di Pesero Urbino Spiccano i nomi di coloro che hanno conquistato migliaia di preferenze Tra questi Mirco Carloni della Lega Che con oltre 6.800 voti è il quarto più votato della regione E il primo del suo partito Un risultato che non fa escludere anche il ruolo di Presidente del Consiglio Al settimo posto troviamo invece Francesco Baldelli Di Fratelli d'Italia che sfiora le 5.000 preferenze L'ex sindaco di Pergola è il terzo più votato del centrodestra Anche lui è in attesa di comunicazioni ufficiali Ma in ogni caso rimarrà a disposizione Al momento pare che all'Udc e alla lista Civitas Civici Non vengano assegnati assessorati Ma non si escludono colpi di scena Se da una parte c'è chi attende le trattative Per la formazione della nuova giunta Dall'altra c'è chi fa un bilancio della tornata elettorale Come Renato Claudio Minardi Vice Presidente uscente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Che ha ottenuto 4.490 voti Posizionandosi nella lista del PD Dietro ad Andrea Biancani e Michaela Vitri Questi ultimi grazie alla doppia preferenza Hanno incassato insieme 16.000 preferenze Un ticket uomo-donna Che ha alzato il livello del numero delle preferenze Ha premiato Michaela Vitri Che è nuova alla politica Ma che ha avuto la possibilità non solo di presentarsi Ma di fruire di questo ticket Con il collega Andrea Biancani Ma ovviamente a Pesaro c'è stato anche un grande impegno Da parte del sindaco Matteo Ricci Che ha sostenuto apertamente Con una discesa in campo Come supporter forte e determinato Questo sostegno sia a Biancani che alla Vitri Cosa che ha fatto insomma ho percepito molto meno Quindi c'è stato un errore da parte dell'amministrazione comunale In questo senso? Quando l'amministrazione comunale Il sindaco chiamava Minardi E ha sempre risposto Affrontando i problemi Cercando di trovare le soluzioni E molto spesso anche mettendo in campo risorse importanti Per la risoluzione di questi problemi E' chiaro che mi aspettavo un impegno maggiore Sapendo che la vittoria del centro-sinistra Non era scontata Proseguito Minardi Bisognava concentrare il consenso Su chi davvero ce l'avrebbe potuta fare Rimane il rammarico Aggiunto per il tanto lavoro svolto Per la città e per l'intera provincia Perché credo che non solo Minardi Ma il partito democratico Il centro-sinistra Avesse il sacro santo diritto Di avere una persona in consiglio regionale Che in questi anni Ha dato davvero il massimo Ovviamente non posso adesso scaricare la colpa su nessuno Però sicuramente Se ci fosse stata magari un po' più di strategia politica Rispetto al fatto che Pesaro C'ha comunque 30.000 abitanti in più Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo E sicuramente c'era bisogno di una concentrazione Di un impegno maggiore Di un'attenzione maggiore Rispetto ad una campagna elettorale Che sapevamo difficile Un'altra valutazione che andava fatta Per Minardi Era l'alto numero di candidati Ben 16 nel comune di Fano Alcuni dei quali autorevoli Ecco ma ora che cosa farà? Continuerà il suo impegno nella politica? Beh la politica per me è una passione Da quando ero giovanissimo Ho cominciato la mia attività politica Tra virgolette nella scuola alle superiori Come rappresentante di classe e di istituto Quindi ovviamente non mi tirerò indietro Il mio impegno rimane quello della prima linea Non è il ruolo che fa il politico E la politica se ce l'hai nel cuore Se ce l'hai nel tuo DNA Se hai voglia di impegnarti La politica ti permette di fare A prescindere dal ruolo Quindi il fatto di non essere in consiglio comunale In consiglio regionale Per me adesso è un fatto così Sì mi dispiace Mi dispiace non poter rappresentare la comunità Ma il mio impegno in politica Rimarrà quello di prima Anzi direi molto più di prima E con più determinazione di prima E tra i coloro Tra i candidati che non ce l'hanno fatta Ad andare in consiglio regionale Abbiamo parlato in questi giorni Anche di Stefano Guzzi Il sindaco di Colli al Metauro Che correva nelle liste di Forza Italia Ma sempre nelle ultime ore Si sta parlando di un ripescaggio Allora cerchiamo di capirne qualcosa di più Collegandoci con Simona Zonghetti Che è a Colli al Metauro Proprio con Stefano Guzzi Buonasera Simona Sì Marco buonasera Mi trovo a Calcinelli di Colli al Metauro Esattamente di fronte al municipio Insieme al sindaco E candidato in consiglio regionale Per la Forza Italia Stefano Guzzi A Guzzi che nonostante le oltre 3.500 preferenze Non è riuscito ad entrare in consiglio regionale Perché? Che cosa è successo? Ci sono dei meccanismi ben precisi Che riguardano la distribuzione dei seggi In base alle percentuali ottenute dai partiti E in questo caso Il seggio è scattato a fermo Dove è stata eletta La capogruppo uscente Jessica Marcozzi Che ha ottenuto poco più di 1.400 preferenze Quindi a Guzzi intanto le chiedo un parere Su quello che è successo È rimasto deluso per il risultato Che appunto dicevamo è dovuto ad un algoritmo? Io non sono rimasto affatto deluso Perché? Perché la mia partecipazione A questa competizione elettorale Era per poter dare una svolta All'amministrazione regionale Quindi se io ho potuto in qualche modo Contribuire a questo ricambio di governo in regione Sono più che soddisfatto Sono anche molto soddisfatto Del mio risultato personale Che in un partito Diciamolo che Non è un grande partito oggi Nel senso che è un partito Che ha il 6% in questa provincia In questa regione Con dei competitor fortissimi Come Carloni Come Sir Filippi Ma anche altri che A Fano In altri partiti Erano comunque candidati Era difficilissimo Tenere un forte risultato Che invece questo risultato è arrivato 3.600 preferenze quasi Inaspettate Sinceramente Non pensavo così tante Ed ero anche consapevole Del fatto che comunque Questo meccanismo elettorale Non dava una garanzia di elezione Sapevo benissimo Che Forza Italia Avrebbe preso Massimo due o tre consiglieri In tutta la regione Quindi non avrebbe eletto In tutte le province Era un po' Una scommessa Poter Diciamo così Ottenere il seggio Nella nostra provincia Per quanto il risultato È stato ottimo Non si è conseguito Ma non è stato questo Né una delusione Né un problema Il mio obiettivo Era quello di vincere la regione E di avere un buon risultato personale Questo è stato Quindi lei non entrerà Al momento in consiglio regionale Però intanto si vocifera Un possibile assessorato Da assegnarle Perché? Perché lei ha Un'esperienza importante Amministrativa alle spalle È un grande conoscitore Anche dei settori Agricolo e ambientale Sono voci di corridoio Oppure me le può confermare? Sono assolutamente Voci di corridoio Nel senso che io leggo Queste cose dai giornali E ci sono tante persone Tanti amici Che mi chiedono Effettivamente Se c'è o meno Questa possibilità Io non voglio escludere nulla Ma come è mia consuetudine Io non sono uno Che chiede nulla Nel senso Io non ho mai chiesto niente Alla politica Se non quello Che mi sono guadagnato Direttamente Con il consenso Della gente E dei cittadini Ogni volta che mi sono candidato Non sono riuscito A entrare nel consiglio regionale Io sono sindaco Di Colle del Metauro E continuo tranquillamente E giustamente a fare il sindaco Di Colle del Metauro Ha sentito Acquaroli In questi giorni? Acquaroli l'ho sentito ieri Mi ha chiamato Molto gentilmente Come solitamente lui fa E mi ha anche detto Che ha piacere di vedermi Comunque nei prossimi giorni Ma questo fatto Di piacere di vedermi Può essere anche Per un semplice scambio di idee O se ha qualcosa Al limite Da discutere con me O da valutare insieme a me Lo valuteremo Con serenità insieme Nullo escluso dunque Al momento Però per quanto riguarda Il Comune di Colle del Metauro Invece ci sono delle certezze? Certezze nel senso Di continuità di amministrazione Questo senza dubbio Nel senso che Io oggi sono sindaco E tendenzialmente Dovrei quindi rimanere sindaco Non essendo stato eletto In Consiglio regionale Dove essersi Per qualsiasi motivo Una eventualità Di altro genere La cosa che io Assolutamente Eviterò Così come avrei voluto evitare Anche in caso di elezione In Consiglio regionale È quella dell'arrivo Di un commissario Qui ci deve essere Ovviamente In qualsiasi caso Una continuità di amministrazione Della mia amministrazione Quindi esclusa assolutamente Questa ipotesi Del commissario Assolutamente sì Non l'avrei mai valutata E anche il mio Aver accettato la candidatura Era perché sapevo Che anche in caso di elezione Non sarebbe venuto Un commissario Ma sarebbe continuata L'attività della mia amministrazione Attraverso il mio vice sindaco Grazie a Stefano Guzzi Marco da Colle al Metauro È tutto A te la linea Grazie Simona Zonghetti Nelle Marche È salito ancora il numero Dei ricoveri in terapia intensiva Legati al Covid-19 Ora sono quattro Di cui tre a Marche Nord Ieri non due E uno ad Ancona In tutto I degenti passano Da 27 a 28 Inoltre nelle ultime 24 ore Sono stati registrati 32 nuovi contagi 12 in provincia Di Pesor Urbino 12 in quella Di Ascoli Piceno 3 nel Lanconetano 2 in provincia Di Macerata 1 in quella Di Fermo E 2 fuori regione Questi casi Comprendono 3 rientri Dall'estero Macedonia Romania Afghanistan 11 contatti In ambito domestico Ed altri casi Rilevati Nel concorso Nel percorso sanitario In ambiente lavorativo In quello Assistenziale A Fossobrone È entrato Ormai da qualche giorno In servizio Don Steven Le campane hanno suonato a festa Sabato scorso Per l'entrata in servizio Di Don Steven Carboni Nelle parrocchie di Fossombrone 2 le realtà Che il Don dovrà guidare Quella di Maria Ausiliatrice E San Martino Sostituendo così Il grande operato Di Don Giancarlo Carboni Che lascia l'incarico Per i raggiunti limiti di età E trasferendosi poi Come collaboratore pastorale A San Lorenzo In campo Don Steven Carboni Nato a Fano Il 22 luglio Del 1979 È stato ordinato prete Il 22 ottobre Del 2005 Ha guidato per nove anni Come vice parroco Alla parrocchia Del Vallato di Fano E negli ultimi Quattro anni È e sarà Sempre a capo Della pastorale giovanile Direttore del centro diocesano Vocazioni E degli altri incarichi Rimanendo sempre a servizio Per i numerosi giovani Della diocesi La celebrazione Si è svolta in serata All'esterno Dell'area Della parrocchia San Martino Con tutti gli accorgimenti Del caso Dovuti al coronavirus Tanti i fedeli E altrettanti I ragazzi Provenienti da Fano Fossombrone E dalla diocesi Presente alla celebrazione Anche l'amministrazione comunale Che ha dato il benvenuto Al parroco Con loro Anche numerosi sacerdoti Del territorio E il vescovo Armando Trasarti Che ha ricordato Al nuovo entrato Di prendersi cura Della chiesa Ma anche delle persone Che vivono E frequentano Fossombrone Sicuramente Una grande emozione Una bellissima serata Perché ci sono stati Tanti forse impronesi Che hanno sentito Questo passaggio Nella vita Della comunità parrocchiale Che non è solo Un passaggio Della mia vita Ma della storia Di queste parrocchie Ringrazio il vescovo Per la fiducia E per avermi Affidato questo incarico Che non riguarda Solo Maria Osigliatrice E San Martino Ma un cammino Di comunione Di tutta la città Di Fossombrone Insieme con Don Giancarlo De Santi Con le parrocchie del Duomo Di Sant'Antonio E approfitto Per dire un grazie speciale A Don Giancarlo Carboni Che inizia Una sua nuova Piccola missione A San Lorenzo In campo Per i suoi 25 anni qui Insieme con Suor Camilla Sappiamo che Eredità si raccoglie Ma la cosa bella E grande Penso sia La voglia E il desiderio Di camminare Guardando avanti Non sempre Rimpiangendo il passato Ma riconoscendo Che ci sono un sacco Di giovani Che hanno voglia Di camminare Dietro il Vangelo Dietro il Signore E questo Dobbiamo farlo Tutti insieme Ringrazio di cuore Anche il Comitato San Martino E tutta la comunità Parrocchiale Che si è smossa Veramente tanto E' stato piacevole Lavorare insieme Conoscersi Lavorando insieme Per allestire Tutto questo Che ha permesso Una bellissima Celebrazione eucaristica E anche un grande Momento di festa Che naturalmente I giovani E i parrocchiani Hanno preparato Per cui Grazie di cuore a tutti Con l'ingresso Con l'ingresso Di Don Steven Carboni Sabato a Fossombrone E di Don Diego Fascinetti A Cagli Domenica scorsa Si concludono così Tutti gli ingressi E le nuove nomine Della diocesi Di Fano Fossombrone Cagli Pergola Il servizio Era di Filippo Pucci Venerdì Torna a Fano La festa Dei fiori Letizia Marchionni Fano si riveste Di colori e profumi Grazie alla festa Dei fiori Che si svolgerà Questo weekend In zona Pincio E che seppur In maniera del tutto Ridimensionata A causa della pandemia Anche quest'anno Rallegrerà Questo primo periodo Autunnale Facendo fiorire La città Organizzata Dal comune di Fano E concordata Con quello di Pesaro Sarà un'edizione Diversa Dalle precedenti Che vedrà solamente La realizzazione Di una mostra a mercato Rinunciando però Agli eventi collaterali Che avevano caratterizzato Gli scorsi anni Venerdì Sabato e Domenica Torna la mostra Mercato dei fiori Non ci saranno più Tutti gli eventi collaterali Che ha fatto crescere La manifestazione In questi anni Per non creare criticità In questo momento Di covid Ma abbiamo ritenuto Opportune far comunque Lavorare il settore In considerazione Che abbiamo visto Che comunque Anche nel mercato cittadino Ultimamente Si sono ripristinati Delle condizioni E le condizioni Di sicurezza Si possono ottenere Comunque Manteremo I 30 espositori Che ci daranno la possibilità Di abbellire Le nostre case Di abbellire La città Di farla diventare Più green Che è veramente opportuno In questo momento Anche così difficile Quindi Realizzeremo Insomma La mostra a mercato Con gli standard Di sicurezza Necessari E dalla festa dei fiori Alla fiera Di San Michele Arcangelo Che si svolgerà Nella piana di Talacchio A partire dal prossimo 26 settembre L'agricoltura Un settore Duramente colpito Dall'emergenza sanitaria Ma che non si è mai fermato Garantendo a tutti noi Sussistenza E prodotti Di prima qualità Un settore Che il comune Di Vallefoglia Ha deciso Di celebrare così Con la fiera Di San Michele Arcangelo Che si svolgerà In zona industriale A Talacchio In ottemperanza Delle disposizioni Anticontagio Giunta alla sua quarta edizione La griffiera Tratterà temi problematiche Legate al mondo agricolo Tramite convegne Ed incontri Che inizieranno Sabato 26 settembre Alle 17 Proseguendo domenica A partire dalle 10 Per poi riprendere Il 3 ed il 4 ottobre Valorizzare I prodotti tipici locali Dare la possibilità Alle aziende agricole Di integrare Il loro reddito Ci saranno momenti Anche di riflessione Importanti Sulla Diciamo Ex-Cantina Sociale Di Morciola Come un centro Di ricerca scientifica Insieme all'Università D'Urbino Di Ancona Insieme Alle associazioni agricole Al Consorzio di Bonifica A Marche Multiservizi Come un luogo importante Che contiene L'inquinamento atmosferico Che dà prodotti Eno gastronomici Di grande qualità Un'agricoltura Di qualità Una riflessione Su diciamo Il melograno Che è una delle nuove Produzioni Una riflessione Sull'economia Del dopo Covid Come noi Competiamo A livello nazionale Di internazionale Nel mondo Due fine settimane Ed un programma ampio Che comprende anche Alcuni momenti di svago Come la rassegna dialettale Con numerosi compagnie teatrali E la presenza di ospiti Come Bicio Barzellettiere d'Italia Quattro giorni In cui All'aperto Perché la zona industriale Di Talacchio Ha Un parcheggio Immenso Ha Un luogo Dove si mangia Si beve Si sta bene Collaborano Nei due proloco Di Montecchio Di Sant'Angelo In l'Isola Quindi sono momenti Importanti E speriamo Di avere anche Il tempo buono Chiedo scusa Per l'inquadratura Di Ucchieli Che non era proprio Professionale al massimo Noi ci fermiamo qui Grazie per aver seguito Il nostro telegiornale Ci vediamo domani mattina Alle 7 In diretta Con la rassegna stampa Arrivederci